Nuovi protagonisti e grandi nomi stanno per entrare in scena nella prima radiosop italiana più amata, il racconto delle eterne passioni, delle passioni che non muoiono, che nulla e nessuno potrà mai distruggere. Da settembre una nuova e appassionante serie di Passioni Senza Fine su radiosirial.it Dammi tre parole, sole, cuore, amore E che palle, lo vuoi chiudere o no il becco? Siamo nervosetti stasera? Sì, stasera ha nervi a fior di pelle. Scusami, non hai l'esclusiva tu quando ti vengono le mestruazioni e diventi acida peggio di uno yogurt? Spiritoso, di questo passo ti prenderanno sicuramente a Zelig, si può sapere cosa ti prende? Buonasera e signori, buonasera, benvenuti al decimo anniversario del festival dello spettacolo, delle fiction e della subopera. Io stasera sono emozionatissima e sono molto contenta di essere la madrina d'onore di questo festival, dato che anch'io sono, così si dice, una suboperaia. Allora, presentiamo subito il primo grande ospite di questa bellissima serata speciale. Chiamiamo qui sul palco un noto attore amato sia dal pubblico italiano sia europeo. Signore e signori, Lorenzo Patanè! Emanuela, grazie, veramente grazie di cuore per questa calorosa presentazione. Non ho parole del calore di questo meraviglioso pubblico, delle fan italiane, di tutti. Grazie di cuore veramente a tutti per questo meraviglioso premio ed accoglienza. Sono veramente senza vero.